Su sollecitazione del CONI e del Comitato Spontaneo che sostiene l'iniziativa da tempo, oggi è stata presentata una nuova istanza alla Commissione Toponomastica del Comune che potrebbe essere discussa già nel prossimo mese. Domenico Bertè. Le squadre sono in campo. Benvenuti allo stadio Franco Scoglio di Messina. La gara sta per cominciare. Non dovrebbe passare troppo tempo prima che si possa sentire questo tipo di saluto per una partita del Messina a San Filippo. L'iter per l'intitolazione dello stadio, che da quando è stato inaugurato nel 2004 è stato sempre stato chiamato con il nome del villaggio dove è sorto, ha avuto un'importante accelerazione. Proprio oggi il vicepresidente del Consiglio Comunale Nino Interdonato, membro delegato della Commissione Toponomastica, ha presentato l'istanza per l'intitolazione della principale struttura sportiva cittadina all'allenatore che più di tutti è rimasto nel cuore degli appassionati messinesi. Franco Scoglio ci ha lasciato nell'ottobre del 2020 e la sua fama ha superato i confini siciliani. Un ricordo vivo in molte città, quello del professore di Vipari, che Messina vuole rendere permanente dedicandogli non il suo stadio, ma quello comunque dove giocherà per sempre il suo Messina. Fu il comitato spontaneo e amici di Franco Scoglio, guidato da Nicky Patter, a dare il processo di intitolazione nel 2006. Il Consiglio Comunale sostende l'iniziativa in maniera compatta un anno dopo. Ma poi la questione non tornò più a galla. L'attuale segretario generale delle donne a giugno scorso respinse in Commissione Toponomastica una prima istanza perché non erano ancora passati dieci anni dalla morte di Scoglio. Ora, a distanza di sette mesi, su sollecitazione del delegato del CONI Aldo Violato, arriva in Commissione una nuova istanza che punta ad intitolare la Curva Nord a Torino Currò, morto al Celeste nel 2001 durante un messina a Catania, e la tribuna stampa Piero Zagami, giornalista della Gazzetta del Sud, è scomparso il 2 febbraio del 2005. Nella richiesta di interdonato c'è anche il suggerimento di chiedere una deroga al prefetto per l'intitolazione dello stadio a Scoglio, qualche mese prima della naturale scadenza dei dieci anni, periodo previsto dalla legislazione prima di poter dare un nome ad una via o a un luogo pubblico. A Milazzo è stato intestato, intitolato il Grotta Polifemo, dopo sette mesi in città si è intervenuti con l'intitolazione all'onorevole Bonino, subito dopo la sua morte, ma diciamo fanno storia gli stadi italiani, il Granillo, il Massimino, non ultimo il Manuzzi a Cesena, intestati subito dopo la morte di questi personaggi importanti nel mondo dello sport. La commissione si riunisce ogni qual volta viene sollecitata, io già credo che noi a metà febbraio riusciremo a convocare la commissione dopoonomastica, e lo stadio intitolato a Franco Scoglio speriamo già prima della prossima stagione sportiva di averlo intitolato al professore. Quindi considerato che è una vittoria... Seconda...